Avete sentito voi stessi, arriverà qua a fare proprio il conduttore, il co-host, l'ha voluto lui e quindi noi ne siamo contenti e orgogliosi. La prossima band, lo vedete già dietro, cambiamo in meno di 40 secondi, loro arrivano da Monza e sono veramente i pionieri dell'alternative rock in Italia. E allora, Roma, concertone del primo maggio, facciamo un po' di rumore per il blu! E' sempre un anno nuovo quando c'è la musica, dovete capire che questo palco che gira è pazzesco, ci sono i preparativi, anzi, io vi chiederei adesso che siete al completo, innanzitutto un saluto là in fondo, là in fondo, là in fondo, in questa piazza, San Giovanni, Grevita questa sera, non so quanti siamo ma tantissimi, siete bellissimi, allora vi chiederei veramente, perché poi sul finale c'è sempre un po' di fretta e si dimentica di ringraziare quelli che sono veramente coloro i quali siamo qua questa sera e quindi un grazie enorme a tutti i tecnici, l'applauso di piazza San Giovanni per voi, luci, suono, regia, autori che ci permettono di farvi ascoltare della buona musica. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, ma voi lo sapete, la musica continua, a tra poco.